Shabbat shalom da Carbondale, Colorado, USA. Siamo qui come sapete presso Carbondale che è un piccolo paesino nell'area di Glenwood Springs dove abbiamo il nostro headquarter, quindi è un inizio appunto del ministero che Hashem ci ha guidato a portare anche qui in America e che pian piano, secondo i tempi di Hashem, sta fiorendo e sta prendendo frutto. Ieri sera abbiamo avuto un Erev Shabbat molto bello nel parco ed è stato importante per noi dare testimonianza proprio di un Erev Shabbat all'interno di un parco a cui tutti possono accedere e abbiamo conosciuto anche in questi giorni un credente che è ritornato, ha ridato la sua vita a Yeshua e che molto molto fervente vi faremo conoscere attraverso una testimonianza video che farà separatamente ed è stato un Erev Shabbat molto significativo per noi ma anche come segno profetico per quest'area. E continueremo in diverse zone dell'area di Glenwood Springs, quindi se ci sono credenti in Yeshua che parlano anche l'italiano, oltre all'inglese o lo spagnolo, sono invitati a partecipare. Saremo sempre nei parchi, qui in Colorado c'è il lockdown, quindi c'è ancora come è stato in Italia c'è un blocco molto diciamo più rigido di quello che si sta vivendo per il momento in Italia ed è quindi importante svolgere tutto ciò che è pubblico all'interno di parchi e di zone in cui c'è il distanziamento sociale. E inoltre è una possibilità di portare la parola di Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia di Israele, proprio laddove le persone si incontrano. E oggi trattiamo la parasha Kiteze e ascolteremo il sermone anche in italiano del rabbino Arel e per noi questo in italiano sarà un sermone anche di chiusura dello Shabbat e quindi ci sarà l'Abdallah di Shabbat che celebreremo insieme. Quindi iniziamo in preghiera, invito anche il rabbino Arel a partecipare con noi e preghiamo insieme. Avinu Malkenu, padre ti chiediamo di guidare ogni parte di questo culto, di questo tempo che è così prezioso, davanti ai tuoi occhi e ti chiediamo di poter infondere in coloro che ci seguono sia nel video, sia nell'audio, sia nella parte scritta quella voglia, quel desiderio di servirti, di servirti in spirito e verità e che Ruach HaKodesh possa guidare ogni momento di questo tempo e che possano le persone essere confunte nel loro cuore e poter venire di nuovo a te, a Shem, di poter ricommettere la loro vita a te attraverso una relazione personale con Yeshua HaMashiach, Gesù il Messia, il Messia di Israele. Amin. Grazie, Rabbi Zinn Gavriella. Adesso andremo direttamente al culto, direttamente al sermone. Dopodiché, come diceva Rabbi Zinn Gavriella, faremo la chiusura dello Shabbat, che ormai in Italia è già passata l'ora. Quindi grazie, Gabriella, Rabbi Zinn Gavriella. Come diceva Rabbi Zinn Gavriella, qui siamo nelle montagne rocciose di Colorado, bel paesino di Carbondale, vicino a Glenwood Springs, dove abbiamo un'altra sede. Ed è molto bello in questi giorni, con tutto il terreno rosso, grigio, diversi colori, i pini. Ci fa ricordare molto della, magari, com'era forse una volta, chissà, della gloria di Hashem, di Dio. Oggi vogliamo parlare, come diceva Rabbi Zinn Gavriella, di chi te c'è. E sarebbe, in italiano, quando andrai, o quando uscirai. E oggi parliamo del come meritare una lunga vita. Ed è un messaggio nascosto sull'onorare le nostre madri. La porzione di Torah di oggi viene dal libro di Deuteronomeo 21, versetto 10, fino al capitolo 25, versetto 19. Per la porzione dell'Aftara parliamo di due libri, due letture. Isaia 54, versetti 1 a 10, e primo Samuele, capitolo 17, versetti 1 a 37. Il libro di Harashah è molto breve oggi. Il Nuovo Testamento, leggiamo da Matteo 5, versetti 27 a 30. E' Prima Correnzi 5, versetti 1 a 5. Quindi adesso parliamo di che cosa dice la madre, la Bibbia delle madri. La Torah ci dice di onorare i nostri genitori. Lo sappiamo. E perché? Se dovessimo speculare, la risposta più ovvia è che i nostri genitori ci hanno fatto il dono più grande di tutti, cioè la vita. Quindi ovviamente un po' di differenza è dovuta a loro. Quando li onoriamo, facciamo un minimo possibile a coloro che ci hanno dato la vita. Ovviamente Dio ci dà la vita tramite loro, ma stiamo onorando coloro che Lui ha scelto per darci la vita. Questa penso che è l'interpretazione convenzionale del motivo per cui onoriamo i nostri genitori. Ma parlando personalmente, io stesso sono recentemente arrivato a percepire una nuova piega del motivo per cui onoriamo i genitori. Qualcosa che, almeno per me, fa saltare in vita la mitzvah, cioè il comandamento, in un modo completamente nuovo. E questo lo voglio condividere oggi. L'intuizione è venuta da qualcosa nella parasha di questa settimana che sembra avere davvero poco a che fare con l'onore dei tuoi genitori. Quindi ti invito a dimenticare per il momento tutto quello che vi ho detto sull'onorare i vostri genitori. E concentriamoci soltanto sulla parasha di questa settimana e poi torneremo dai nostri genitori e collegheremo tutto insieme. Ok? Quindi la nostra parasha contiene una mitzvah, cioè il comandamento molto famoso, di Shiluach Haqqan, che manda via una madre uccello. Il modo in cui è espresso dalla Torah, se trovi un nido con dei pulcini o con delle uova e in cima al nido noti che c'è una madre uccello che è accovacciata sui piccoli, come fanno, la mitzvah è, cioè il comandamento è Shiluach Te Shiluach Et A'im, manda via la madre uccello. Ve'et abbanim tikach lach. E poi puoi prendere i pulcini per te o le uova per te. Quindi, la grande domanda qui è quale esattamente è la logica di questa mitzvah? Sembra avere una sorta di messaggio etico. Questo è effettivamente il modo in cui quasi tutti i commentatori lo interpretano. Ma qual è esattamente questo messaggio? Quindi andiamo a interpretare dei versetti biblici sulla madre uccello. Ancora una volta, c'è molte discussioni su questo tra i maggiori commentatori medieviali, ma fondamentalmente le teorie che sono là fuori si dividono in due gruppi principali. Maimonide e Nachmanide, come i principali fattori di due diversi approcci. Maimonide sostiene che l'idea di base è che la cosa peggiore che potresti fare a qualsiasi genitore è costringerlo a resistere alla scomparsa, cioè alla morte del proprio figlio. Credo che sia anche uguale per gli animali. Noi sappiamo che gli animali, sì, non pensano come noi, fanno altro, però hanno sentimenti, hanno emozioni, ok? Non sono esseri senza niente. Quindi è brutto, penso, anche per un animale, vedere la morte di un figlio. E non è qualcosa di unico per la nostra umanità, come ho detto. Quindi la mitzvah di Shiluach Haqqan, mandare via la madre uccello, non impone quel tipo di crudetà nemmeno ad un uccello. La Torah Shida è permessa di prendere le uova o di prendere i pulcini. Non so quanto si potrebbe mangiare un pulcino, però non si fa, non si faceva. Ma non obbligare la madre a guardare imponente, impotente, scusate, la scomparsa dei suoi piccoli. Mandala via e poi puoi prendere i pulcini. Nachmanide e quelle del campo del loro settore la vedono un po' diversamente. Loro sostengono che qui c'è qualcosa che sa distinzione di specie. In altre parole, mentre la Torah conferisce agli esseri umani il diritto di consumare i prodotti animali e in effetti gli animali stessi, sappiamo tutti che c'è una differenza tra uccidere una mucca per il cibo e uccidere le intere specie della mucca. Un'altra cosa che io vorrei sostenere è che se anche avete una galina, per esempio, non è che vai a prendere le uova della galina e poi uccidi anche la galina. Prima di tutto è un po' sciocco perché dopo non hai più la galina per fare altre uova. A meno che non arrivi all'età che non fa più le uova, allora fai un bel brodo. Però quello è un altro discorso. Ma non si va ad uccidere sia la madre e anche prendere i piccoli. Se hai un po' di cervello, lasci la madre per fare poi altri piccoli. In modo che puoi anche avere altre uova, altri vulcini. Ma anche in modo che la sua specie può andare avanti. Quindi c'è qualcosa di eticamente aberrante. Sostiene un rabbino nel guidare un'intera specie all'estinzione. E anche se qui non lo stiamo facendo veramente, tuttavia se dovessimo uccidere madre e figli insieme, due generazioni contemporaneamente dovremmo prendere le uova e i pulcini e prendere la madre dell'uccello. È una specie di irragionevole consumo, eccessivo della specie e noi non vogliamo questo. Quindi se prendiamo i pulcini o prendiamo le uova, salveremo la madre. Manderemo fuori la madre e l'uccello. La lasceremo vivere. Questo è il modo da vedere la cosa da rabbino. Quello che vorremmo fare con voi è esplorare il testo effettivo della mitzvah. Stesso come indicato nella parashah di questa settimana. Perché penso che se lo facciamo, se prestiamo attenzione alle parole, ne discerneremo ancora un altro strato di significato, qui nella logica, alla base di questa mitzvah. Al di là di quanto già ci dicono Maimonide e Nachmanide. Quindi parliamo dell'importanza biblica della madre. Vorremmo iniziare facendo un paio di domande. Prima, perché questa mitzvah è formulata in particolare con riferimento agli uccelli? C'è qualche motivo? In altre parole, se si tratta solo di non infliggere questa crudità ad un genitore per assistere alla morte di suo figlio, ciò sarebbe vero per qualsiasi specie. Oppure se si tratta di un problema di istinzione di specie, allora perché esprimerlo specificamente in termini di uccelli? Quindi, scusate, c'è una mosca. Quindi questa è la prima domanda. Poi la seconda domanda. C'è una parte del testo che sembra problematica qui. Vediamo, la lingua del testo è Se trovi questo nido e lo trovi su un albero o lo trovi per terra e ci sono pulcini o ci sono le uova e la madre è accovacciata su questi pulcini o sopra queste uova ma poi la frase è lo, che vuol dire non o no non prendere dai suoi figli Ora devi sederti lì e chiederti che cosa ci fa questa frase? Sembra stranamente un po' fuori posto Quindi, mentre il testo continua a senso secondo i due rabbini Manda fuori la madre e poi prendi i bambini Secondo un rabbino ciò significherebbe mandare fuori la madre perché non infliggerle questo dolore per farle esistere alla morte dei piccoli Secondo un altro significa mandare fuori la madre in modo che non li uccidiate entrambi nello stesso giorno Però torniamo indietro un po' e chiediamoci E vi ritrovate in una posizione un po' problematica Cosa vuol dire non prendere la madre dei suoi figli? Voglio dire che non è proprio questo il punto Forse si tratta di non infliggere questo dolore alla madre come dicevamo prima Dovrebbe veramente essere non portare i bambini davanti alla madre non le prendere davanti a lei Cosa intendiamo con non portare la madre via davanti cioè i bambini via davanti alla madre? Non si tratta di prendere la madre Ok? O forse avrebbe dovuto essere veramente non portare la madre con i bambini Cosa vogliamo dire qui? Non prendere la madre dai suoi bambini? Perché l'enfasi sull'assunzione della madre? Non lo so A meno che non ci sia un altro livello di significato in questa mitzvah La chiave per vederla è guardare la ricompensa Quindi andiamo a vedere i versetti della Bibbia su come vivere una lunga vita Si scopre che l'invio della madre in cielo arriva con una promessa ricompensa di lunga vita Pensate che se non si faceva questo se li prendevate tutti e due insieme sia la madre e i piccoli non vivevi una lunga vita Questo sta scritto nella Bibbia Oltre l'onorare dei genitori che anche dice la stessa cosa Dio li collegava insieme e andremo a vedere dopo C'è solo un altro comando positivo come dicevo nell'intera Torah che viene fornito con una ricompensa promessa e accade solo che quella ricompensa promessa per l'altra mitzvah sia anche la lunga vita come dicevo L'altra mitzvah che porta la stessa ricompensa è Quindi anche questo viene fornito con una promessa di lunga vita Onora tua madre e tuo padre in modo che i tuoi giorni siano allungati Tutti e due È incredibile Ha senso che se onoriamo i genitori vivremo lungo se non li onoriamo Hashem farà fuori quella persona Non so in che modo ma succederà Ma che cosa ha a che fare con una madre uccello dei bambini È molto particolare Ok? Quale possibile denominatore comune potrebbe esserci tra la mitzvah di mandare via la madre di un uccello e onorare tua madre e tuo padre E quindi la Torah sembra di collegare queste due mitzvah Andiamo a vedere perché Cosa ci insegna la Bibbia riguardo all'onorare la maternità? E il denominatore comune sembrerebbe essere l'onore della maternità Quindi permettetemi di farvi una domanda Quanto è facile catturare un uccello adulto? Se vi dicessi io adesso di smettere di guardare questo video adesso un attimo Uscite e prendetevi qualche minuto per catturare un uccello E io non dico di usare una trappola Io dico con le mani Uscite Ci sono molti alberi forse Probabilmente ci sono molti uccelli Potete sentirli cinguettare dappertutto Uscite a mani nude e prendete qualche uccello o uccellino e tornate indietro e scrivetemi un'e-mail Quanti e-mail di uccellatori di successo pensate che riceverò da voi? Quanti riusciranno a catturare gli uccelli madre? Zero Nessun di voi giusto? Non è facile catturare una madre e un uccello specialmente a mani nudi è un conto che uno usa le trapode si può fare ma questo non è il punto il punto della Torah è questo che non è facile magari catturare la madre Qui stiamo camminando per la strada e vediamo un nido con una madre in bilico sui suoi piccoli Esiste l'unica possibilità che abbiamo di prendere una mamma e un uccello a mani nudi ok? Nude sapete perché? Perché quella mamma farà di tutto per proteggere i suoi piccoli si sacrificherà se necessario in uno sforzo disperato per spingervi magari sbatterà le ali o magari cercherà di prendervi col becco si libererà sopra quel nido ok? quindi mi ricordo una storia di quando c'era una una galina che aveva dei pulcini in una barn cioè in posto dove stanno in una stalla e ci fu un fuoco ci fu un incendio no? e gli uccellini andavano i pulcini andavano sotto le ali della mamma quando è passato il fuoco quando si è spento trovarono la galina morta bruciata viva però quando l'hanno alzata da sotto le ali erano usciti i pulcini vivi questo vi dice e vi fa vi fa capire che cosa farebbe la mamma per i piccoli quindi potreste dire a voi stessi ma non potreste prendere soltanto le uova ma potreste anche prendere lei giusto? beh non lo dovete fare non prendere la madre mentre si libra sui piccoli mandala via e poi prendi le uova perché? perché è una profanazione della maternità quindi andiamo vedremo a onorare l'amore e la protezione di una madre per il suo figlio adesso lasciatemi spiegare una cosa quando Hashem creò la terra per la prima volta gli esseri umani potevano soltanto mangiare la frutta la vegetazione poi in seguito dopo la caduta e nel peccato Hashem dice sai cosa puoi mangiare anche gli animali e anche i loro prodotti magari prima si poteva anche mangiare i prodotti non lo sappiamo magari latte ok nei uova non lo so non lo dice ma ci sono delle restrizioni una restrizione naturale che Hashem ha dato agli animali varie capacità per sfuggire ai predatori per un uccello quella capacità è di volare via almeno per la maggior parte degli uccelli alcuni non possono volare ma sono pochi le sue ali lo proteggono e in effetti Hashem ha detto che quando si tratta di uccelli potremo avere quanti più uccelli riusciamo a catturare ma Hashem dice darò le ali agli uccelli non sarà in grado di catturarne così tanti ok allora cosa dice la Torah nella Parashah di questa settimana diamo un'occhiata alla situazione c'è un nido di uccello ci sono le uova ci sono i pulcini c'è la mamma le uova a cui hai diritto a Shem ha dato agli esseri umani la capacità di consumare i prodotti animali e anche gli animali stessi ma la madre qual è l'unico motivo per cui potresti catturare quella madre ha le ali può volare via e perché sta proteggendo i suoi piccoli e non volerà via quindi sta usando i suoi istinti materni contro di lei è come se qui ci fosse una trappola e l'escale nella trappola non fosse altro che l'istinto materno è della madre stai usando l'istinto materno stesso contro di lei questa è una profanazione della maternità non farlo lascia che la mamma uccello se ne vada libera non hai davvero il diritto di prenderla ok cosa dice la Bibbia sulle madri e su vivere una lunga vita quindi qui penso che sia il punto in cui otteniamo la più incredibile intuizione al mondo su cosa significhi onorare la tua madre perché quale esattamente l'idea qui con la madre uccello è che una madre farà qualsiasi cosa per i suoi piccoli come dicevo prima si sacrificherà persino per i suoi piccoli e ci viene ordinato di onorarlo di non rivolgere l'istinto di una madre contro lei e questo non è vero solo per la madre uccello ma anche per la tua madre vostra madre tua madre farà qualsiasi cosa per te lo abbiamo saputo ieri per esempio questo amico di cui parlava la Rebbe Zingavrella che abbiamo conosciuto qui è un carissimo fratello in Cristo di Nishua e ha detto che è riuscito a fare una cosa molto importante soltanto perché la madre ha aiutato lui a farlo gli ha dato i soldi per poter compiere quello che a lui serviva ok quindi molto importante si ha aspettative per te la mamma ha speranze per te ma alla fine della giornata se non soddisfi le sue aspettative e anche signore le sue speranze lei ti amerà ti vorrà bene comunque perché sei suo figlio o sua figlia non disacrare quell'amore approfittandone quell'amore quell'amore dei genitori ha lo scopo di aiutarvi a crescere non prendere quell'amore usandolo come una trappola che le metti contro dove prendi e prendi tutto quell'amore e non dai nulla in cambio onorate i vostri genitori se lo fate se mandate via la madre uccello scoprirete che onorando la maternità la fonte di tutta la vita la vostra stessa vita sarà rafforzata potreste potreste scoprire voi stessi vivrete una lunga vita e sana è giusto che voi mostri mostrate di differenza alla fonte di tutta la vita onorando vostra madre e vostro padre quindi adesso grazie di avermi ascoltato voglio invitarle a Rebizzing Gabriella di fare la benedizione di salvezza Amen Toda Rabba Rabbino Arell per questo meraviglioso sermone che ci fa pensare riflettere alla nostra relazione con le nostre madri con i nostri genitori non solo a quello che può essere appunto l'esempio che Hashem ci dà proprio per renderci conto di ciò che significa nella sua creazione essere secondo il suo ordine quindi agire secondo l'ordine di Hashem in tutto ciò che facciamo anche quando cerchiamo procacciamo il cibo è importante che si agisca secondo quelle che sono le regole dettate dalla Torah e da quello che è stato la nostra eredità in Hashem e continua a esserlo e che è stata compiuta attraverso il Mashiach il Messia di Israele Yeshua Amen e vi invito a pregare insieme a noi la benedizione del Messia prima in ebraico e poi in italiano Amen Baruch Atta Adonai Eloheinu Melecha Olam Asher Natanlanu Ederek Yeshua Tutti insieme in italiano Benedetto sei tu Signore nostro Dio Re dell'universo che ci hai dato la via della salvezza in Yeshua il Messia Cristo Gesù Amen e se hai pregato con tutto il tuo cuore con tutto te stesso questa preghiera ti chiediamo di contattarci e abbiamo un regalo molto bello che è appunto la testimonianza di un ebreo che come noi è venuto a Yeshua a Cristo e la sua vita è cambiata per sempre e questa è l'eredità che ognuno di noi porta e preghiamo continuiamo a pregare per il popolo di Israele che sia redento negli ultimi tempi preghiamo per il risveglio degli ultimi tempi proprio del popolo di Israele di questi tempi Amen Adesso invito il rabbino Arella a pregare per tutti noi la benedizione aronica ma prima della benedizione chiuderemo lo Shabbat con l'Abdalah di Shabbat paroochat Adonai Eloheinu melech l'Olam vorrei prehagafen Amen Amen benedetto tu ascemo il nostro Dio re del mondo creatore del frutto della vita Adesso faremo una benedizione di un ramo di un'erba una sostanza profumata Baruchat Adonai Eloheinu melech haolam bore mine bes Amin Amen Benedetto tu ascemo nostro Dio re del mondo creatore delle erbe profumate Ed è questo per ricordare semplicemente la dolcezza della Shabbat mentre entriamo nella settimana lavorativa Adesso andremo ad accendere la candela Baruchat Adonai Eloheinu melech haolam bore mi ore haesh Amin Baruchat Adonai Eloheinu melech haolam hamav di del kodesh lechot uven or lechosh uven israel amin uven yum hash lecheshet yeme ham maseh Baruchat Adonai hamav din lech 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 benedetto tu ascemo nostro Dio re del mondo creatore delle luci del fuoco benedetto tu che distingue tra sacro e profano tra luce e tenebra tra israele e popoli tra giorno settimo e sei giorni lavorativi benedetto tu ascem che distingue tra sacro e profano Amin Adesso farò la benedizione armonica e varachecha Adonai bishmarecha yair Adonai panavalecha bichunneka yissa Adonai panavalecha vyeshim lecha shalom veshem yeshu hamashiyah tzera shalom shalom che il signore vi benedica vi protega che il signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio che il signore levi il suo volto su di voi e vi dia la pace in nome di yeshua geshua messia il principe della pace shalom shalom a tutti grazie di esservi collegati con noi per averci ascoltato e guardato il video come diceva la rabbia Zingavriella se avete accettato yeshua come vostro salvatore per la prima volta oppure se siete un ebreo che ancora si sta domandando della messianicità di yeshua contattateci abbiamo questo regalo gratuito che è semplicemente un libro scritto da un ebreo che va in approfondimento ed è gratis quindi non c'è nessun costo per voi per chi è un fratello in yeshua in Cristo che non è ebreo voi potete anche contattarci e c'è un libro che per voi che ha un costo minimo grazie e shalom a tutti shalom a tutti e shavuot shavuot buona settimana grazie a tutti